Come tutti sapete il nostro modo di fare televisione è basato sul contatto diretto con la gente. Cerchiamo di ascoltare le sofferenze delle persone e quando parliamo di sanità purtroppo le sofferenze sono tante. Se poi alle sofferenze fisiche che Madre Natura ha dato si aggiungono quelle burocratiche, amministrative, gestionali e quant'altro che vanno a riverberarsi pesantemente sulla salute dei pazienti, potete immaginarne le conseguenze. Fatta questa premessa, fatto questo preambolo, siamo in compagnia del signor Giovanni Ciccarone. Il signor Giovanni Ciccarone ha una figlia, una ragazza, di quanti anni? 42. Benissimo, 42 anni che è affetta da tetra paresi spastica con problemi di incontinenza. Andiamo al nocciolo della questione. La persona, la figliola del signor Ciccarone ha bisogno ovviamente di cicli di terapia riabilitativa. Per salvare, continuativa, per salvare il salvabile, diciamo così. Ma qui si arriva all'inghippo. Si dice, l'ASD dice, noi possiamo soltanto dare terapia riabilitativa per due mesi sì e due mesi no. Alternativamente. Beh, immaginate le conseguenze, perché uno fa una riabilitazione per due mesi e tutto ok, però poi rimane altri due mesi a digiuno, tra virgolette, come riabilitazione. È un fatto paradossale. Sentiamo dalla viva voce del signor Ciccarone questa situazione e tutto l'iter che avete posto in essere. Qui si è partito dal fatto che i disabili, come mia figlia, i cosiddetti cronici, non avevano bisogno di terapia riabilitativa, perché avevano la cronicità e non c'erano vantaggi riabilitativi in questo senso. Gliel'abbiamo smentito perché ci siamo procurate altre dichiarazioni specialistiche di alcuni medici della stessa ASD che attestano il contrario. Ora hanno girato la frittata. Dici, no, noi stiamo tagliando la terapia costretti dai tagli che ha fatto la regione. Ora, francamente, in questo gioco a scarica barile, chi ne va di me sono i nostri figli, i nostri cari. E non è possibile andare avanti. Quindi, in buona sostanza, due mesi ci sarebbe la terapia, la riabilitazione, poi per altri due mesi stop. Ecco, io mi permetto di dire, non sono un medico, ma un po' di logica ce l'abbiamo tutti. Ma non si poteva fare tre sedute a settimana? Cioè, dico, fermo restando il monte ore di riabilitazione, di sedute, si poteva distribuirle diversamente. E' un po' come dire, anziché mangiare due mesi in modo continuativo e poi rimanere due mesi a digiuno, forse è meglio mangiare un giorno sì e un giorno no. Ma noi già stavamo un giorno sì e un giorno no. Mia figlia faceva tre terapie settimanali di un'ora. Ora la vogliono portare a due settimanali, ma sempre due mesi sì e due mesi no. Non ci vuole un medico per capire che se... Due ore, due sedute a settimana per due mesi. Poi finiti due mesi, niente. I ragazzi come i nostri, se tu non li tieni in movimento con la terapia riabilitativa, arretrano. E se si ferma due mesi, raggiungi... Un esempio, se mia figlia sta a 60, fra due mesi sospesa la terapia, torna indietro, va a 50. Io quel 10 non lo recupero più fra due mesi facendo la terapia. Cioè, i nostri cari vanno a distruggersi. Tutto questo per un fatto economico? Secondo me, più che un fatto economico, è proprio di cattiva distribuzione delle ore. Ripeto, fermo restando quel monte ore, poteva essere distribuito in maniera più logica, più razionale. Bene, noi abbiamo ascoltato queste dichiarazioni del signor Cicarone. Ora io, come ho sempre fatto, mi metterò in contatto con l'ufficio relazioni col pubblico, mi metterò in contatto con la direzione generale, col direttore generale. Ci siamo anche conosciuti, siamo incontrati a Polifemo ed eravamo rimasti d'accordo che qualora ci fosse stato un problema, noi proprio sfruttando il mezzo televisivo avremmo potuto, come dire, attenzionare della questione la direzione generale. Signor Cicarone, lei non sarà solo. Le saremo vicini in questa battaglia, che è una battaglia innanzitutto di logica, prima ancora che di civiltà, ma dico proprio di logica, e cercheremo di, quantomeno, di far sì che la distribuzione delle sedute sia in maniera più razionale, perché sembra pazzesco, sembra assurdo davvero dire a una ragazza, dire a una persona con quella patologia tu per due mesi, scusatemi l'espressione volgare, cioncati, rimani tra virgolette cionca per due mesi. Io i termini forti li uso, così ci capiamo meglio. Oltretutto c'è una considerazione, quel poco che comunque si è riusciti a recuperare, a conquistare, a guadagnare in termini di riabilitazione in quei due mesi, poi con i due mesi di sosta, di stasi, vanno a perdersi. Vedete, è una decisione contraddittoria, una decisione che distrugge quel poco che faticosamente si è riusciti a recuperare, a raggranellare. Vedremo cosa succede.